Con il coach Napolitano presentiamo il prossimo impegno del Valle Soverato in trasferta sul campo del Talmassons. Soverato reduce da tre vittorie consecutive, adesso una trasferta impegnativa sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista logistico e anche dal punto di vista tecnico, perché si andrà ad affrontare una squadra che abbina qualità ed esperienza nel proprio roster. Sì, è una squadra che ha vissuto delle difficoltà nell'ultimo mese con gli infortuni di Mazzoleni, il centrale di Tirozzi soprattutto, vista l'importanza della giocatrice per gli equilibri della squadra, che viene da tre sconfitte consecutive, ma tre partiti in cui ha battagliato tantissimo, con Ravenna in casa, andando poi giovedì a Macerata perdendo 3-2, andando a Cutrofiano domenica e prendendo 3-2. Quindi è una squadra che non muore mai, nonostante le difficoltà riescono sempre a tirare fuori qualcosa e credo che sia una delle maggiori insidie, oltre alla qualità tecnica della squadra. Il fatto che comunque non mollano, bisogna avere l'idea di una partita lunga, di una partita dispendiosa in termini energetici, quindi gestire al meglio la trasferta. E quello che dico alle ragazze, che ho detto alle ragazze, rientro dalla partita di domenica, è di resettare quello che è stata la partita di domenica contro Marignano, perché l'errore più grande che possiamo commettere è pensare di essere arrivati. La ragazza, dicevo, deve essere considerata un punto di partenza, non un punto di arrivo. Abbiamo fatto sicuramente una buonissima partita, ma ogni partita è una storia a sé, quindi bisogna resettare e pensare alla partita domenica come una nuova battaglia, come una partita a giocare palla su palla. Soverato che gode di un momento sicuramente di salute positivo, tre vittorie consecutive, dicevamo, una squadra che soprattutto il dato rilevante è quello dei progressi che dimostra partita dopo partita. Oltre alle vittorie, ovviamente, è una squadra che è cambiata tantissimo rispetto all'ultimo anno, quindi era ovvio che ci fosse qualche difficoltà anche di amalgama all'inizio, ma è una squadra che adesso sta iniziando a cambiare marcia, complice anche all'arrivo dello post-americano Shields. Sì, questo lo abbiamo detto, che sicuramente abbiamo degli equilibri diversi, quelli che sono cambiati sono gli equilibri di gioco, in termini di distribuzione e di numero di palloni attaccati per attaccanti. È chiaro che non si poteva pensare che Mason attaccasse 60 palloni a partita, quindi questo è il dato rilevante, quello che fa cambiare gli equilibri. Detto questo, le ragazze stanno lavorando dal 23 luglio e io ho sempre riscontrato una buonissima qualità negli allenamenti. Molto probabilmente non era poi sufficiente, non è stato sufficiente nella partita con Vallefoglia, la prima in cui abbiamo pagato magari anche un po' lo scotto e l'esordio, o nella partita con Ravenna, dove comunque siamo andati a perdere contro una squadra solida, esperta, dopo un lungo viaggio. Quello che ci mancava era un po' di malizia e un pochino di fiducia, ma è chiaro che in una squadra giovane la fiducia si acquisisce A giocando, B con i risultati, perché la squadra giovane deve acquisirla questa esperienza, quindi io non mi sono mai fasciato la testa, non mi esalto adesso dopo la prestazione di Marignano, perché so che il campionato è ancora molto lungo e che ogni partita è storia a sé. Dobbiamo comunque mantenere il nostro livello di allenamento, crescendo piano piano con il lavoro e avendo quella malizia durante le partite, soprattutto nel giocarci punti quelli decisivi, quelli che ci permettono di fare la differenza. Quella è quello che è mancato in alcune partite e che abbiamo magari ritrovato in queste tre vittorie che abbiamo fatto. Federica Ferrario, giovane e libero del Valle Soverato in ordine cronologico, sei una delle ultime ad essere arrivata qui nel rinnovato roster bianco-rosso. Sono passate già sei partite di campionato, un Valle Soverato in crescita, sotto il profilo dei risultati e anche del gioco. Domenica si affronta una partita ostica, una trasferta ostica contro il Talmassons. Sì, non sarà una partita facile, però comunque in queste ultime due partite stiamo trovando il nostro ritmo e ce la mettiamo sempre tutta negli allenamenti e anche nelle partite. Sei molto giovane, ma questo è un roster molto giovane. Primi mesi a Soverato, le tue impressioni sulla città, sulla squadra e sull'ambiente? Sì, siamo molto giovani, però mi trovo benissimo e anche le ragazze mi hanno subito aiutato a inserirmi nel gruppo e anche lo staff sono stati subito molto accoglienti con me. Coach Napolitano ti ha già chiamato in causa diverse volte nel corso delle partite in questo avvio di stagione. Le tue sensazioni su questo campionato di A2 a livello generale? Abbiamo visto che l'equilibrio in questo avvio la fa da padrone in tutti e due i gironi. Sì, è la prima volta che faccio questo campionato e ho visto che comunque c'è molto equilibrio tra le squadre ed è un campionato difficile, però mi goderò questa esperienza al massimo. Grazie a tutti.